La sposa subito domanda e risposta secca come un quiz televisivo ok questa è la televisione di casa ok via domanda Domanda a chi? Allora se io dico domanda devi dire risposta Ah ok risposta Ok se devo dire esempio il tuo nome? Veronica Con chi ti sposi? Michele Da dove vieni? Seregno Provincia di? Monza Monza e? Brianza Brava Ok vedi che ne mancava un pezzo di solo attento Devi essere attenta Allora senza guardare dimmi le due parole che sono scritte qua sopra sul monitor della televisione In alcune ci sono varie pubblicità della marca della televisione sul tuo televisione c'è scritto? C'è scritto mi sembra bride, bride boa to be una roba del genere Ok aspetta che verifico fammi vedere Baby to be, baby to boa Ok ora per gli amici a casa e gli italiani traduciamo cosa vuol dire? Non so neanche a che caso c'è scritto Fiera di essere sposa Fiera di essere sposa Te sei fiera? Sì 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 Otti Otti Allora dimmi un pregio e un difetto del tuo futuro marito Pregio Ok grazie Allora cosa fai di bello nella vita? Sono un agente di viaggi Yeah agente di viaggi Allora mettiamoci davanti alle tue amiche Amiche tutte dietro Di solito facciamo il contrario qua al convento ma le interviste facciamo Ci stiamo tutte dentro in qua in camera dai Tutta al centro brave Allora adesso facciamo una carrellata velocissima velocissima di nomi Abbasso un po' perché se no lei è brava Grazie Prego Allora iniziamo con i nomi Facciamo una carrellata da quella più alta a quella più bassa ok? Ok pronti via Ilaria No ho detto la sposa Pronti via E adesso me Ilaria Elisa Clizia Carola Cristina Ok ora rifacciamo con la voce perché prima era silenzioso adesso facciamo con la voce Via Ilaria Elisa Clizia Carola Cristina Ok il mio nome? Stefanucci Il nome del cameraman? Eh cameraman Ok Panasonic Allora ragazze mettiamo il bicchiere al centro dentro la televisione brave Tutte tutte chi Ok C'è l'unica che deve bere non c'è il bicchiere va bene facciamo fin di te Non puoi bere Come mai? Lasciamo stare Non si può bere Non si può bere Ok È un tasto A fine video mi dite il perché Allora Allora al mio tre facciamo un urlo per la sposa Pronte? Le donne di Monza, Brianza Prego per noi Le nostre santine Uno, due, tre, un urlo Via Urlo Ano A scores A Grazie a tutti!